Ogni bambino con un ritmo diverso dagli altri, attraversa vari stadi di sviluppo. Ognuno ha i suoi punti di forza, chi inizia a camminare e correre già a dieci mesi, chi invece, riesce già a dire qualche frase quando i coetanei ancora dicono solo sillabe. Questo processo naturale non può essere forzato, ma da mamma potresti ad esempio pensare di stimolare la creatività di tuo figlio. Ti diamo un'idea in questo video. Il tuo browser non può visualizzare questo video-video di vittoria salvo anche quando si tratta di intelligenza, raramente un bambino assomiglia a un altro. Molti genitori se notano nel proprio figlio un'intelligenza diversa da quella dei suoi coetanei, si preoccupano in positivo o in negativo e vogliono fare un test di intelligenza per i bambini, che sembra essere il modo migliore per scoprire la verità. Tuttavia, un test di intelligenza per bambini che sia davvero valido, non è sempre facile da trovare. In questo articolo ti diremo come dovrebbe essere, dove puoi trovarlo e come leggere i risultati. Vedi anche raschiamento? Tutto quello che devi sapere per affrontarlo al meglio tutto quello che devi sapere sul tracciato in gravidanza. Giochi di motricità per bambini Tutto quello che devi sapere quando è opportuno fare un test di intelligenza? Nessuno dovrebbe far fare un test di intelligenza per bambini solo per divertimento, perché il risultato rimane impresso nella mente di genitori e figli e nel caso in cui dovessere essere negativo, può sfociare in un vero e proprio trauma. Se tutto è nella norma, tuo figlio va bene a scuola, ha dei bei voti ed appare equilibrato e soddisfatto, il risultato del test può avere un impatto negativo sul rendimento futuro. Se i genitori sospettano che il loro bambino sia più o meno dotato di altri, allora può essere utile fare davvero il test. Test di intelligenza per bambini all'asilo Ogni test è adatto per una specifica fascia d'età, ne esiste uno utile ai bambini che frequentano l'asilo. Per prima cosa è importante che il bambino sappia come affrontare la situazione nuova per lui, inoltre, dovrebbe essere in grado di capire che deve ragionare per rispondere al quiz. Spesso e volentieri, il risultato di un test di intelligenza dipende dalle condizioni del bambino. Soprattutto con i bambini più piccoli può quindi essere utile ripetere il test dopo un certo tempo, perché i bambini si sviluppano sia mentalmente che cognitivamente ad una velocità pazzesca. Il risultato del test è quindi valido per un periodo di tempo più o meno breve, dove trovare i test di intelligenza più adatti. Se ritieni che il tuo figlio abbia un'intelligenza superiore o inferiore alla media, il primo passo è quello di ottenere un colloquio, con l'insegnante di classe, nel caso di bambini più piccoli con il personale dell'asilo, e con il pediatra. Sia l'insegnante che il pediatra possano guardare alla performance del bambino in un contesto più ampio. Se insegnanti e pediatri consigliano un test del cui per bambino, è essenziale consultare un esperto per far determinare il quoziente intellettivo. Può essere utile rivolgersi a centri sociopediatrici, centri di orientamento scolastico, psicologi della scuola, psicologi o psichiatri in studi indipendenti, pediatri con formazione supplementare in psicoterapia. Cosa ci comunica il valore di quoziente intellettivo? Innanzitutto, un test del cui ci dice qualcosa sul talento intellettuale di una persona e permette di determinare il livello di intelligenza. Un test per i bambini indica quanto è alto il quoziente intellettivo del bambino rispetto alla media della sua età. Un buon test, però deve fare ancora di più, fornire informazioni sui punti di forza e di debolezza del bambino e quindi servire anche come aiuto educativo per i genitori. I diversi valori del cui possono essere classificati come segue, valori significato 70-84 intelligenza inferiore alla media 85-99 di poco inferiore alla media 101-114 normale 115-129 di poco superiore alla media 130-145 di grande talento ebban e tenere presente, che la maggior parte delle persone raggiunge un cui compreso tra 85 e 115. Questo range è considerato il range normale, solo una piccola parte della popolazione, il 2,28%, ha un cui molto basso o molto alto. Quali sono i test del cui per i bambini? Un test di intelligenza riconosciuto per bambini di età compresa tra i 3,5 e i 7,5 anni è il BIVA, IME-Based Intelligence Test for Preschool Age. Si tratta di un test basato sul riconoscimento di immagini, suddivise in aree che i bambini dovrebbero riconoscere con l'aiuto della loro esperienza di vita quotidiana. Ci sono poi altre figure dove invece viene chiesto al bambino di trovare soluzioni fino ad allora sconosciute. C'è anche il test WPPSI3U Exler Pre-School and Primary Scale of Intelligence per i bambini dai 3 ai 7 anni. Ancora una volta è suddiviso in aree per offrire ai bambini compiti che corrispondono alla loro età. Vengono testate l'intelligenza generale e le prestazioni nell'area verbale e cognitiva. Per i bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni esiste la WISH-U-Exler Intelligence Scale for Children. Il test stesso è suddiviso in molti test individuali per ottenere un quadro il più completo possibile dell'intelligenza del bambino. Questi includono test sulla comprensione del linguaggio, sul pensiero logico, sulle prestazioni della memoria e sulla velocità di. Elaborazione delle informazioni Tra i 6 e i 15 anni c'è anche il test EIDTRE. Anche questo si divide in molti sottotesti, per esempio sul pensiero logico, sulla memoria o sulla sensibilità sociale. Con l'aiuto di questo test è possibile determinare con maggiore precisione quali sono le capacità forti, deboli e normali del bambino. Newsletter mandatory field sal femminile Data controller Collette this data in order to send you personalized commercial communications, subject to your choices. To find out more about the management of your personal data and to exercise your rights, you can consult our personal data protection policy. Go consigli, news, curiosità e tanto altro. Quanto costa un test del cui per bambini I prezzi sono molto variabili. Tutto dipende dalla procedura del test, dal numero di test e dall'istituzione in cui viene eseguito. Inoltre, è bene sapere che i costi per fare un test di intelligenza per bambini, non sono coperti dalla sanità pubblica. Si dovrà provvedere al pagamento di tasca propria. Grazie a tutti.